Buon pomeriggio, ben trovati, ma soprattutto benvenuti in questo studio oggi davvero pieno, arricchito dalla presenza preziosa di tanti ospiti, tanti frati giovani. Accanto a me, Fra Pasquale Cianci, che salutiamo subito. Bentrovato, Fra Pasquale. Grazie, ben trovata anche a te, cara Maria Antonia. Insieme a noi ci siamo messi, come vedete, in cerchio, perché poi parleremo di preghiera, di comunione, quindi ci siamo portati avanti con il lavoro. Allora io li presento, loro sono Fra Giuseppe Perrone, Fra Francesco Bottarico e Fra Antonio Gabrielli, frati, studenti. Benvenuti, pace e bene, grazie per essere qui. Grazie a voi. Abbiamo provato a prepararci prima, a telecamere spente, abbiamo fatto un po' di prove, non so voi, ma io ho dimenticato tutto quello che ci siamo detti. Però andiamo avanti così, insomma, con la semplicità che tra l'altro vi contraddistingue. Allora Fra Pasquale, questo spazio oggi è anche per ricordare che fra poco ripartirai con il tuo programma Le Parole di Francesco da mercoledì 6 ottobre, no? Sì, ripartiremo insieme perché ecco tu mi affiancherai anche in questa impresa. Non sono del mestiere certamente, però diciamo che umilmente e timidamente presteremo il nostro servizio, facendo un po' da cornice anche alle parole del Papa, perché il messaggio principale di questo programma è proprio dare voce a Francesco. Come ben sappiamo, Papa Francesco ogni mercoledì ha la sua catechesi, l'udienza generale, nella quale lui tiene il momento catechetico, la sua catechesi. E noi vogliamo accompagnare il Papa in questa avventura della parola, utilizzando questo spazio per lanciare proprio un messaggio soprattutto ai giovani, perché credo che prima di tutto il Papa quando parla non manca mai di lanciare un messaggio ai giovani e anche quando non lo fa, anche quando il messaggio non è espressamente diretto ai giovani, comunque c'è un insegnamento che i giovani possono cogliere. Allora vogliamo davvero utilizzare questo spazio per comunicare con loro, soprattutto di parlare di una parola che spesso fa anche paura, la parola vocazione, che non è una parola vecchia, ma come possiamo ben vedere anche attraverso la presenza di questi tre giovani frati, è una parola giovane. Poi ti diamo anche a loro, se anche a loro ha fatto paura questa, immagino che ci sia stato comunque un cammino giustamente, perché in effetti viene trascurato sempre questo aspetto nella vocazione. Però prima di andare poi ad approfondire anche le loro storie, a proposito di parole del Papa, siccome anch'io mi sento ancora un po' giovane, quindi mi sento chiamata in causa, io direi di ascoltare subito innanzitutto le parole che Papa Francesco disse proprio in occasione dell'incontro con i giovani a Circo Massimo nell'agosto del 2018. Ascoltiamole insieme. I sogni sono importanti, tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l'orizzonte, a coltivare la speranza in ogni azione quotidiana. I sogni dei giovani sono i più importanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato, non potrà capire la vita, la forza della vita. I sogni ti svegliano, ti portano di lui e di lui. Sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso per l'umanità. Ecco, voi giovani avete nel cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni, sono la vostra responsabilità e il vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro. E questo è il lavoro che voi dovete fare, trasformare i sogni di oggi nella realtà del futuro. E per questo ci vuole coraggio. Coraggio, no? Che bella parola. Intanto un po' di nostalgia, dobbiamo dirlo, per quelle immagini di quel grandissimo, bellissimo assembramento a Circo Massimo 2018. Speriamo, insomma, di poter ritornare davvero a quella normalità. Però a proposito di sogni, prima parlavamo di vocazione e la vocazione è un sogno, il sogno vocazionale. Allora, com'è stato il vostro sogno? Cominciamo da Francesco, visto che hai già il microfono, ti vedo già bello pronto sulla linea di partenza. Caravissimo. Allora, innanzitutto posso dire con grande gioia che il mio sogno io lo sto vivendo già. Quindi lo sto realizzando giorno dopo giorno. Però, ecco, ha una data ben precisa questo mio sogno. La data è il 20 luglio del 2013. Quindi circa dieci anni fa, otto anni fa. Ecco, è un sogno particolare perché all'epoca avevo 22 anni e venivo da una storia un po' travagliata, un'adolescenza un po' critica, con conflitti genitoriali un po' burrascosi, con grandi amicizie, grandi amori anche. Però c'era qualcosa che un po' dentro mi appiattiva. Quindi sentivo dentro di me che i conti non quadravano. C'era qualcosa che mi appesantiva, c'era qualcosa che mi faceva stare stretto nella mia vita. E quel 20 luglio del 2013 mi venne proposto di fare un corso vocazionale ad Assisi e lì iniziò a dischiudersi questo sogno che se da una parte era sotto banco, chiuso nel cassetto, quasi non ci sperassi più che potesse avverarsi, ecco, lì ho potuto conoscere la figura di Francesco, San Francesco d'Assisi, e lì ho potuto osare, ecco, ho potuto sperare in qualcosa di più grande nella mia vita. Quindi allargare un po' gli orizzonti, allargare e amplificare il respiro. Questo poi mi ha portato a conoscere la figura dei frati, la figura di Padre Pio, che mi hanno indirizzato un rapporto più autentico con Gesù. Quindi questo poi ha permesso alla mia vita di avere una svolta. Infatti è stato fondamentale quella data, quell'incontro, quegli incontri, affinché tutta la mia vita assumesse una nuova luce. E quindi questo è stato per me l'inizio di quel sogno. E prima chiedevi se i sogni fanno paura, se la vocazione fa paura. Ecco, sì, un po' fa paura perché se è reale, e se davvero mettiamo tutto noi stessi dentro la vocazione, è in gioco tutta la nostra vita, quindi sono scelte fondamentali. E quindi uno ci riflette tempo, molto tempo, prima di fare un passo. Ecco, c'è sempre la trepidazione di capire se va bene o va male. Quindi c'è la paura, ma poi c'è una spinta che appunto ti accompagna, non ti fa provare quella solitudine nelle scelte, ma è una scelta fatta con chi ti sta accanto, con chi ti ama per prendere il volo poi nel sogno che si realizza quotidianamente. Per me questa è la mia vocazione da frate minore e cappuccino. Che bella questa testimonianza fra Pasquale, no? Sì, 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 ma se li si fa parlare veramente escono delle perle, dei tesori. Ognuno di loro ha una storia. Diceva Jean Vanier, ogni uomo è una storia sacra, e quindi ogni vocazione è una storia sacra. Io invece, del discorso del Papa, la parola che più mi ha impressionato è quando dice i sogni svegliano. E quindi io una domanda la lancerei anche a voi. Non so, Antonio, se vuoi magari aiutarmi a riflettere insieme su questa capacità da parte dei sogni di svegliarsi. Ecco, c'è un momento in cui si aprono gli occhi su una nuova realtà. che sembrava quasi o non esistere o essere addormentata. Poi a un certo punto, mentre, ecco, un giovane come te, no? Tu stavi studiando. Sì, infatti io ricordo sempre, ho fatto una vita dedicata un po' ai vari impegni, con la famiglia, gli amici, lo studio. Però non ero molto impegnato in parrocchia. Infatti ricordo sempre mia sorella che diceva ma tu sei come una monade, vuoi stare così per conto tuo. e però alla fine mi ritrovo, per seguire un sogno di cui sotto sotto forse c'era la paura che fosse un'illusione, mi sono ritrovato invece di un gruppo, in un ordine di frati. E poi quello che dicevi tu è proprio strano che a volte i sogni svegliano, i sogni magari fanno parte del momento del sonno, della parte onirica, però racchiudono molto di noi, di come vogliamo vivere, di come vogliamo indirizzare la nostra vita. e quindi questa vita che facevo, di cui ero contento, però alla fine c'era qualcosa che mi attirava ad approfondire ancora di più, ad andare come dice il Papa oltre l'orizzonte e quindi mi sono ritrovato a fare questo passo anche per una sorta di attrazione che a volte è anche difficile spiegare. Quando chiedono parla della tua vocazione, perché, per come, è difficile spiegarla, perché c'è qualcosa che mi ha attratto. Il Signore, poi diciamo Gesù, lui mi ha saputo attirare a sé. Però più altre parole è difficile, perché è veramente un'esperienza molto intima, molto profonda, che ha a che fare veramente col sogno inteso in questo senso. È verissima questa cosa che dice Fra Antonio, che è difficile spiegare, ma devo dire che ci state riuscendo davvero benissimo. Siccome vedo già Fra Giuseppe, tra l'altro dagli occhi, che mi sembra che abbia tante cose da dire anche lui, noi ci fermiamo solo per qualche secondo e poi torniamo ancora tutti insieme. Sognare non è mai troppo, dice Papa Francesco. Abbiamo ascoltato prima il suo appello ai giovani al sogno. Noi ne stiamo parlando qui in compagnia di giovani frati che hanno realizzato, stanno vivendo il loro sogno, però il sogno porta con sé anche, come dire, un bagaglio di difficoltà molte volte. Papa Francesco giustamente ci ricordava, ci vuole coraggio. A me poi mi segnano particolarmente questi inviti e questi appelli, perché io mi ritengo una persona assolutamente poco coraggiosa. Quindi oggi io sono molto contenta, invece di avere di fronte a me tre persone che di coraggio ne hanno avuto, perché per fare una scelta di vita così anche importante, il coraggio è certamente una componente che nella vostra vita non è mancata. Allora lo voglio chiedere a Fra Giuseppe se ti senti una persona coraggiosa. Da un punto di vista vocazionale io penso che ogni scelta ha il suo rischio, per cui se ci credi davvero in questo penso che devi accogliere e basta. Io vorrei ritornare un attimo sulla questione del sogno, per un attimo ecco, perché ritornando a quello che ho vissuto, il mio sogno era più un bisogno quando volevo realizzarmi come musicista e allora ritornando al discorso del coraggio ero molto determinato su quello e volevo realizzarlo. Ma passare poi dal sogno bisogno che era il mio, al sogno di Dio che è desiderio è qui il passaggio diciamo più appunto forse coraggioso in realtà, perché puntare su se stessi come d'altronde oggi la società ci trasmette in maniera molto facile, appunto è facile farlo, perché tutti lo fanno e quindi siamo portati a farlo. Mentre rischiare, desiderare quello che sogna Dio per noi è lì il vero mettersi in gioco. Per cui per me è questo il passaggio che mi ha portato a credere fermamente in questo sogno, ma che ripeto è il desiderio di Dio per noi, il sogno di Dio per noi. Non è facile assolutamente, soprattutto perché a livello personale faccio esperienza soprattutto di tante fragilità, per cui di fronte a questo si è facilmente scoraggiati nel dire ma forse non fa per me oppure non è questo che vuole Dio per me, ma in realtà stai sempre lì, sei tu che pensi di te, non è quello che vuole Dio per te, perché Lui sa qual è il meglio per ognuno di noi, per cui c'è solo da, e qui salta l'altra parola, bisogna solamente fidarsi di Lui, è qui la fiducia, e il cammino prosegue in questa direzione, per cui il coraggio è sinonimo di fiducia ed è fondamentale, senza di questa non si va da nessuna parte. Oggi ne abbiamo poca di fiducia probabilmente, no? Sì, infatti ho una curiosità, avevo proprio una domanda da fare proprio a Giuseppe, c'è stato proprio un momento esatto, proprio c'è una frase di Mariano Magrassi che sempre mi impressiona per la capacità, perché la riporto proprio alla mia esperienza, dove dice è una data indimenticabile il giorno in cui tu fai esperienza di Dio. Ecco, se dovessi dire in una data, in un'ora, ecco, come erano le 16 del pomeriggio, no? Le 4 del pomeriggio, quando i primi discepoli incontrarono Gesù, no? Nel Vangelo di Giovanni. Per te, ecco, quale può essere questa data? Qual è questa data, Giuseppe? Beh, allora, io posso dire questo, che intanto ho avuto diversi momenti, non solo uno. Certamente ricordo il momento più forte, quando avevo 24 anni, un frate mi ha letto letteralmente nel cuore quello che non poteva sapere, e quindi lì ho fatto esperienza di un qualcosa di unico, cioè non mai vissuto prima di quel momento lì. Per cui, in quel momento, il Signore mi stava parlando in maniera chiara come mai aveva fatto, forse. Anche se in tutto questo, come spesso racconto ad amici che mi chiedono ma come mai la tua scelta? E io rispondo dicendo guarda, è colpa di Padre Pio se mi trovo a essere frate. Perché in diversi momenti della vita, cioè, lui è accanto a me in ogni situazione, e credo che ci sia la sua mano in ogni situazione che mi è capitata, per cui sicuramente è così. Però ecco, a 24 anni, in un momento, in una confessione, posso ricordare questo, in una sera, ed era forse mezzanotte, luna, dopo un'adorazione eucaristica. Ecco, questo lo ricordo certamente, ma ripeto, ci sono tanti momenti, tanti eventi e anche, soprattutto, tanti incontri. E posso dire in maniera sintetica che il Signore mi ha parlato in maniera molto chiara e schietta nella dimensione della sofferenza, della malattia della gente, sia per il lavoro che facevo prima di entrare in convento, ma anche e soprattutto da un punto di vista di cammino di fede, perché è lì che si è manifestato in maniera proprio chiara. Dovremmo farli venire più spesso, fra Pasquale, in studio. Allora, ritenetevi già, come dire, prenotati per la nuova stagione. Io vorrei fare anche una domanda ancora. Vogliamo prima vedere, Papa Francesco, ascoltare ancora qualcosa che lui ha da dirci, così ci dà ancora degli spunti in più per riflettere. Ascoltiamo questo stralcio proprio tratto da un'udienza di Papa Francesco del mese d'aprile in cui c'erano delle sue catechesi sul tema della preghiera. Ascoltiamolo insieme. Le preghiere, quelle buone, sono diffusive, come ogni buono. Si propagano in continuazione, con o senza messaggi sui social. Dalle corsie di ospedale, dai momenti di ritrovo festoso, come da quelli in cui si soffre in silenzio. Il dolore di ciascuno è il dolore di tutti e la felicità di qualcuno si travassa nell'animo degli altri. Le preghiere rinascono sempre. Ogni volta che congiugiamo le mani e apriamo il cuore a Dio, ci ritroviamo in una compagnia dei santi anonimi e dei santi riconosciuti che con noi pregano e che per noi intercedono, come fratelli e sorelle maggiori transitati per la nostra stessa avventura umana. A proposito di fratelli maggiori, l'esperienza che raccontava anche prima fra Giuseppe con Padre Pio, qui in realtà in queste parole di Paolo Francesco spunti di riflessione ce ne sono tantissimi. Eh sì, ce ne sono tante perché il Papa parla proprio di questa comunione dei santi. Io una domanda già la farei, per esempio, a parte l'esperienza di Padre Pio a cui ci ha accennato Giuseppe, chiederei a te Francesco, a te Antonio, ecco, nella vostra esperienza, innanzitutto la preghiera, quanto è stata importante nella vostra esperienza? E poi se l'idea di preghiera che voi avevate da giovani, ecco, perché i giovani, si sa, hanno anche un loro modo originale di pregare, poi quando si entra in convento si viene educati anche alla preghiera. Com'è stato questo impatto, questa novità? E poi, ecco, se c'è anche nella vostra vita un santo che vi ha in modo particolare ispirato, ecco, dalla cui amicizia siete stati poi invogliati a fare questo passo? Sì, allora, partendo dall'ultima, io sin da piccolo ho avuto, mi ricordo avevo uno di quei libretti a fumetti che leggevo e rileggevo sulla vita di Santo Antonio di Padova e mi ha sempre colpito questa figura di questo personaggio che aveva studiato, importante, nel suo monastero e poi lascia tutto e si mette in discussione, si avvia verso l'Africa per una missione, lì fallisce, ritorna e poi entra nei frati minori e viene quasi dimenticato e vive una dimensione importante, quella del silenzio, dove appunto mature, anche lui forse avrà sviluppato un modo di pregare ancora più approfondito, forse ancora più francescano e da lì viene sbocciato questa sua attività di predicazione anche a difesa degli ultimi. E a me sempre questo mi ha colpito, questa figura di questo santo che anche facendo il parallelo con Francesco, ha una sua idea, va avanti, Francesco va per riparare la casa di Dio credendo che fuori la fatta di mattoni, poi piano piano capisce. E quindi questo, a proposito della paura, mi ha anche sempre, spesso rassicurato nel vivere il mio sogno, capendo che a volte posso non essere recettivo di quello che Dio mi manda, però comunque l'importante è andare avanti, perché poi affidandosi a Dio piano piano il Signore ti indirizza. E in questo ho sempre trovato sostegno nello stesso Sant'Antonio, in Padre Pio, che per me sono come miei confratelli. E nella preghiera mi rivolgo a loro chiedendo aiuto nella preghiera se devo pregare per qualcuno, ma anche per capire meglio, per mettere in discussione. E questa preghiera poi anche in me è cambiata, un po' è ritornata come era quella da bambino. Questa è una preghiera, quando ero bambino mi pregavo il Signore così com'ero. Poi via via crescendo forse si diventa un po' più intellettuali, si pensa anche che la preghiera sia una sorta di meditazione tipo anche un po' New Age, queste impostazioni, questo tipo di preghiera molto separando spirito e corpo e quotidiano. E invece via via anche nell'ordine, nell'esperienza di formazione, anche aiutato dalle udienze del Papa, dalle sue omelie, perché il Papa è diventato, è stato eletto quando noi abbiamo iniziato il cammino di discernimento. E quindi piano piano si fa quell'esperienza di una preghiera più concreta in cui veramente metti davanti al Signore te stesso e quindi è un dialogo. Oggi la mia giornata è stata questa. Come praticamente ti rendi conto che è come quando i discepoli si rivolgevano a Gesù. Questa parola non l'ho capita. Signore, cosa significa? Signore, c'è questa persona che sta male. Gesù, perdonami. Gesù, aiutami. E diventa veramente la propria vita condivisa con Cristo. Un dialogo di confidenza, sì. E poi, Francesco, a te vorrei chiedere questo. Il Papa parla della preghiera diffusiva, no? Cioè, sembra quasi che la preghiera in sé stessa abbia questo potere di diffondersi senza alcun altro strumento se non proprio la preghiera stessa, no? La potenza dello Spirito. Fa anche un cenno ai social. Come la vedi tu questa espressione? Ecco, che valore oggi anche potrebbero avere i social? Potrebbero avere i social? Ecco, non so se tu utilizzi questo strumento e come lo utilizzi. Ok. Allora, inizio a parlare della preghiera come, ecco, strumento diffusivo. Innanzitutto, ecco, posso dire in base all'esperienza che faccio io di preghiera che la preghiera anche a volte in maniera paradossale quando la si vive da soli perché c'è la preghiera personale e poi c'è la preghiera comunitaria ha una qualità particolare cioè è quella di metterti in contatto prima con te stesso e poi soprattutto ti mette in contatto con Dio e di conseguenza ti mette in contatto con i fratelli. Quindi la preghiera è un momento in cui sei costretto a fermarti sei costretto a metterti a nudo e a fermare la tua vita e vedere che direzione stai prendendo dove stai andando cosa stai facendo della tua vita ecco quindi questo diventa un'occasione quotidiana ma poi è fatta anche di momenti specifici no? Prima chiedevi a Giuseppe a Fra Giuseppe l'orario preciso in cui hai avvertito la certa presenza di Dio ecco quindi questa preghiera è un dialogo è un dialogo Dio la settimana scorsa nel Vangelo di Martedì dove Gesù ha scelto i dodici i dodici discepoli ecco Luca l'evangelista che descrive questo episodio mette proprio in evidenza questo che Gesù si ritira su un monte sta in orazione tutta la notte e dialoga con Dio e quindi poi prende una scelta e poi questa scelta questa preghiera dà frutto e noi che siamo qui presenti oggi è frutto di quella preghiera perché è lì che nasce la Chiesa è lì che poi gli apostoli si diffonde la buona notizia quindi è lì che diventa diffusiva e ti mette in contatto con la sensibilità degli altri perché diventa anche esolo da te stesso quindi c'è un rientrare e un uscire da se stessi un uscire da se stessi con nuovi sentimenti con un nuovo volto con nuove azioni da compiere in merito ai social ecco questo per noi religiosi è un campo un po' minato perché anche per me che non sono perché i social diciamo è un campo minato in realtà un po' per tutti perché poi richiedono anche un utilizzo responsabile certo si si è fondamentale maggiore ragione quando poi parliamo di preghiera parliamo di vocazione ecco sempre partendo dalla mia esperienza i social per quanto quel mondo venga chiamato virtuale di fatto è una fetta della realtà e quindi noi siamo chiamati anche a essere presenti lì in quei luoghi perché sono dei luoghi sono delle piazze pubbliche alcune private e quindi anche noi manifestando chiaramente la nostra identità manifestando chiaramente chi siamo le nostre intenzioni quindi la buona notizia che vogliamo apportare e quindi è fondamentale starci ma starci da frati starci da consacrati evitando magari di emulare o di di stogliele perché poi rappresenta anche un pericolo quindi come tutto è stato creato buono i social la tecnologia quindi internet provengono dall'intelligenza dell'uomo quindi tutto è stato fatto buono nel disegno di Dio anche quell'ambito è buono quindi però come tutte le cose che sono state create utilizzate nella giusta maniera portano molto frutto quindi l'affermazione finale è questa la preghiera può utilizzare anche lo strumento social per diffondersi oppure anche senza i social di per sé potrebbe essere diffusiva per se stessa la preghiera è diffusiva per se stessa cioè i social sono uno strumento di cui può avvalersi la preghiera ma non indispensabile anche perché se consideriamo che l'avvento dei social è dell'ultimo millennio cioè quindi dal 2000 in poi si preghiamo anche prima giustamente quindi la storia ce la insegna ecco magari un aiuto sicuramente può senza altro in questo nei vari lockdown che abbiamo vissuto lì davvero sono diventati poi uno strumento fondamentale ma pensiamo banalmente anche al mese di maggio certo appunto collegato con i giovani collegati via zoom quindi giustamente come diceva fra Francesco lo strumento di per sé nasce buono poi sta a noi farne il giusto utilizzo ma a proposito di preghiera ma non solo fra Giuseppe tu non hai abbandonato la musica però prima dicevi che sognavi di fare il musicista io ti ho visto ti ho intravisto suonare o mi sto confondendo no 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 ecco allora questo giusto per chiarire che poi diventare frati non significa fare una vita di chiusura e di rinuncia i talenti si possono continuare a servizio del Signore e a proposito di questo andiamo un po' indietro nel settembre 2019 ho scelto proprio quella data come dire come speranza di ritorno alla normalità e vediamo uno stralcio dell'adorazione eucaristica di quella che fu appunto la veglia di preghiera del 2019 sei qui davanti a me oh mio signore sei questa brezza che ristora il cuore prove tu che mai si consumerà presenza che riempie l'anima insieme adoro te ponte della vita adoro te trinta infinita i miei calzari riemerò su questo santo suono alla presenza tua mi prosperò insieme e l'abbiamo riconosciuto alla batteria giusto? è proprio lui Giuseppe la preghiera è anche questo è anche la musica come diceva Sant'Agostino chi canta prega due volte sono momenti bellissimi che rivivremo anche se quest'anno la veglia tornerà ad essere al chiuso però voi vi state preparando anche insomma per il vostro momento di adorazione che ovviamente è affidato alla vostra orale giovanile vocazionale no? Sì infatti questo momento diciamo che fa un po' da apripista a tutto un anno noi vogliamo vivere tutto l'anno in preghiera anche perché pensiamo come ha detto Francesco prima che le vocazioni nascano proprio dalle ginocchia di coloro che si mettono in adorazione dinanzi al Signore solo solo dalla preghiera è solo Dio è solo dal cuore di Dio che nasce la chiamata e quindi è proprio stando dinanzi a Lui che noi possiamo scoprire il senso anche della nostra vita della nostra vocazione e quest'anno il tema della preghiera sarà proprio partirà proprio da un sogno di Padre Pio siamo partiti dal sogno dei nostri sogni dai sogni di Dio per arrivare anche a un sogno specifico speciale di un giovane ragazzo poco più che adolescente aveva 15 anni quando Padre Pio nel 1903 proprio qualche settimana prima che lui entrasse in convento perché aveva fatto diverse volte richieste aveva atteso tanto ecco c'è un posto disponibile nel convento di Morcone per iniziare il noviziato e Padre Pio si prepara il giovane Francesco Forgione si prepara ad entrare in convento ha una visione nella quale vede Gesù vestito di bianco che lo invita ad entrare in una radura grandissima nella quale ci sono due gruppi di uomini uomini vestiti di bianco da una parte uomini vestiti di nero dall'altra lui si ritrova al centro sempre con Gesù al fianco a un certo punto Gesù tira fuori una corona e gli dice guarda questa corona sarà tua se tu combatterai per me e invita il piccolo Francesco ad andare a lottare con un personaggio strano un personaggio mostruoso che ecco il rompe nella scena e il giovane Francesco si sente tramortito Gesù lo sorregge l'abbiamo anche qui raffigurata questo è un mosaico anche dei mosaici di Rupnik della rampa della chiesa di San Pio quindi questo si riferisce proprio al sogno che tu stai raccontando proprio a questo sogno che fa solo che in questo caso Rupnik ha già proiettato Padre Pio nella vita che verrà nella vita nuova nella vita in Cristo quindi è vestito da frate ma Padre Pio fa questo sogno prima di entrare in convento quindi era quindicenne nel sogno lui combatte vince e lo manda via questo uomo nero che è il maligno il male il diavolo e poi Gesù a un certo punto gli dice guarda io inserbo per te una corona ancora più grande ancora più più bella se tu lotterai per tutta la tua vita e allora ecco il sogno finisce e Padre Pio quando scrive questa testimonianza è già un giovane adulto frate sono passati diversi anni lo fa proprio sotto l'obbedienza dei superiori per dire come questa visione questo sogno sarebbe stato un sogno che poteva rimanere anche nel cassetto se questo ragazzo non avesse preso il coraggio di vincere le proprie paure entrare in convento e trovare la conferma di questo sogno nella sua vita dopo aver visto quante lotte quante battaglie avrebbe dovuto affrontare e vincere per poi ritrovarsi ecco nella gloria dei cieli allora questa corona rappresenta ecco in questo anno noi inizieremo proprio la celebrazione dei venti anni della canonizzazione di Padre Pio e questo sarà un po' il tema che accompagnerà tutti i giovedì alle 21 sì pregheremo proprio per le vocazioni allora l'appuntamento a non mancare a questi momenti di preghiera e ovviamente l'appuntamento ricordiamolo anche con Fra Pasquale che ritorna da mercoledì 6 ottobre con il programma La Parola Francesco per continuare a farci sorprendere stimolare e meravigliare dalle parole di Papa Francesco per dare anche un messaggio ai tanti giovani io sono stata contentissima di essere qui questo pomeriggio con tutti voi soprattutto per la vostra presenza senza nulla togliere a Fra Pasquale con il quale ci vediamo ovviamente più spesso e continueremo a vederci però davvero vi auguro buone cose una buona vita un buon percorso vi voglio però strappare la promessa di tornare ancora qui nei nostri studi quindi lasciatemi questo sogno a proposito di sogni grazie grazie davvero per essere stati con noi grazie a te Fra Pasquale e grazie a te Maria Antonia noi ora ci fermiamo l'appuntamento è con la preghiera il santo rosario la novena a San Pio la celebrazione eucaristica e poi torneremo come sempre ancora qui in diretta per la seconda parte di questo speciale novena a San Pio 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 novena a San Pio